Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sono state sicuramente i miei genitori che mi hanno sempre spronata a dare il massimo e credere nelle mie potenzialità e i miei allenatori che nonostante la disabilità hanno sempre creduto in me e il mio ragazzo che mi sostiene sempre in tutte le competizioni ed i ritiri. Il momento sportivo più bello che ho vissuto fino ad oggi è sicuramente l'europeo del 2019 con la conquista della qualificazione paralimpica. Ho vissuto delle emozioni veramente tanto forti e mi sono resa conto di quanto questo gruppo e questa squadra sia coesa e forte. La notte prima di una gara il mio pensiero ricorrente prima di addormentarmi è sicuramente l'esito futuro della gara stessa. Inizi a pensare a come saranno gli avversari, a come le ritroverai dopo diverso tempo che non le si avviste o comunque si pensa a come reagirà la squadra nella competizione stessa. La vittoria ai giochi la dedicherei sicuramente alla mia famiglia, al mio ragazzo e alla mia squadra di Roma con cui mi alleno gran parte del tempo durante la settimana. La squadra che temo più delle altre è sicuramente gli Stati Uniti. Abbiamo avuto modo di incontrarle sia durante un collegiale congiunto a Milano prima dei mondiali che durante il mondiale. Sono sicuramente una squadra molto forte e una squadra molto unita che gioca da tanto tempo insieme e da cui sicuramente abbiamo tanto da imparare. Oltre allo sport mi piace preparare dolci. Il dolce che preparo meglio è sicuramente la mimosa e oltre a prepararli poi mi deletto a mangiarli anche.